Sul red carpet di Cannes va in scena una protesta contro la Russia. La modella ucraina, Lina Baikova, ha indossato una maglietta con i colori del suo paese, gialla con scritta azzurra, che riportava un insulto rivolto a Vladimir Putin. La protesta è avvenuta prima della proiezione del film di Cannes Lodge, The Old Oak. La sicurezza è intervenuta, affermando la modella, che dopo aver discusso qualche minuto con loro è stata allontanata.